Lady Mary, da subito grandi marchi a prezzi mai visti con sconti fino al 70%. Tutte le nuove collezioni dei marchi più trend a prezzi di svendita. Tante idee regalo, accessori esclusivi e scontatissimi. Total look donna super scontato. Abiti e maglie a partire da 19 euro e tanto altro. Lady Mary, complesso Palano, provinciale Messia. Lady Mary presenta le nuove collezioni Sposi 2011. Nuovi stilisti per il rinnovato atelier. Modernità e raffinatezza per l'abito dei vostri sogni. Unica ed inconfondibile, la linea Carlo Pignatelli Cerimonia, da noi in esclusiva per Messina. Tantissime le proposte cerimonia come da nostra tradizione. Lady Mary, complesso Palano, provinciale Messia.